Rispetto dell'avversario che ovviamente passa anche dal rispetto delle regole, ma ancora di più c'è un principio non negoziale che è quello di rispettare il mandato ricevuto dai clienti. Quindi la fedeltà in mandato è qualcosa molto importante soprattutto se pensiamo alla vita politica perché troppo spesso questo principio non viene rispettato.